la locanda della tormenta presenta carnachi il cacciatore di spettri il caso de il cavallo dall'invisibile buon ascolto avevo ricevuto un invito da carnachi quel pomeriggio quando lo raggiunsi trovai che sedeva da solo appena fui entrato nella stanza lo vidi alzarsi con un movimento rigido e stendermi la mano sinistra il volto era coperto di graffie lividi la mano destra bendata ci salutammo con una stretta e mi offrì il giornale che rifiutai mi passò poi una manciata di fotografie e tornò alla sua lettura ora questo è carnachi non una parola era provenuta da lui né alcuna domanda da me ci avrebbe raccontato tutto più tardi passai circa mezz'ora guardando le foto per lo più istantanee talune scattate con il flash di una bellissima ragazza in alcuni dei ritratti la sua bellezza risultava evidente visto che avendo un'espressione spaventata e sconvolta non era difficile supporre che fosse stata fotografata in presenza di un pericolo la maggior parte delle foto ritraevano interni distanze e corridoi in ognuna si poteva vedere la ragazza a grande distanza o in primo piano con forse soltanto una mano un braccio una porzione di testa o di vestito inclusi nel ritratto tutte le foto erano state evidentemente scattate con qualche preciso scopo che non era quello di ritrarre la ragazza ma ciò che la circondava e come potete immaginare mi incuriosirono molto verso la fine del mucchio tuttavia mi imbattei in qualcosa di decisamente insolito era una foto della ragazza in piedi bruscamente sorpresa dal bagliore del flash aveva la faccia leggermente rivolta in su come fosse stata atterrita da qualche rumore proprio sopra di lei come materializzato per metà e fuoriuscito dalle ombre era la forma di un enorme zoccolo esaminai la foto a lungo senza comprenderne più del fatto che avesse a che fare con qualche strano caso in cui era stato coinvolto carnachi quando giunsero gesso parkwright taylor carnachi stese la mano per avere indietro le foto che restituì nel medesimo stato d'animo di prima e andammo poi tutti a cena dopo aver trascorso un'oretta tranquilla mangiando disponemmo le sedie in circolo e ci mettemmo comodi carnachi esordì sono stato nel nord dalla famiglia isgins nell'east lancashire è stata una strana faccenda nel complesso amici miei come suppongo penserete quando avrò terminato il mio racconto sapevo prima di andare qualcosa sulla leggenda del cavallo come l'ho sentita chiamare ma non ho mai pensato di imbattermi in alcun modo mi rendo conto solo ora di non averla mai presa sul serio nonostante la mia regola di mantenere sempre una mente aperta siamo strane creature noi esseri umani ebbene avevo ricevuto un telegramma con richiesta di appuntamento il che naturalmente mi indicava che c'era qualche problema il giorno stabilito il vecchio capitano isgins in persona venne ad incontrarmi mi riferì molti nuovi particolari sulla leggenda del cavallo sebbene naturalmente ne conoscessi da sempre i punti principali e comprendessi che se il primo genito fosse stata una ragazza quella ragazza sarebbe stata perseguitata dal cavallo durante la fase del corteggiamento si tratta di una storia eccezionale come ho già accennato e non ho mai pensato fosse più di una superstizione vedete per sette generazioni la famiglia isgins aveva avuto primogeniti maschi e dal resto gli stessi membri avevano lungo considerato la leggenda poco attendibile per venire al presente il figlio maggiore dell'attuale famiglia è una ragazza canzonata da amici e parenti e avvertita per celia a tenere gli amici maschi a debita distanza o a chiudersi in convento se prima ragazza da sette generazioni spera di sfuggire alla maledizione e questo penso ci fa vedere come la storia abbia attecchito al punto da essere giudicata degna di poca considerazione non trovate beh due mesi fa la signorina isgins si è fidanzata con bomò un giovane ufficiale di marina la sera del loro fidanzamento prima che questo fosse annunciato è accaduto una cosa che ha dell'incredibile che ha spinto il capitano isgins a chiedere di incontrarmi e a farmi viaggiare da loro per verificare la faccenda dagli archivi e dai documenti che mi furono affidati rilevai che 150 anni prima si erano verificate alcune eccezionali e spiacevoli coincidenze per definire la cosa nel modo più diplomatico nel corso dei due secoli precedenti c'erano stati cinque primogeniti di sesso femminile su un totale di sette generazioni ciascuna di queste ragazze era cresciuta illibata si era fidanzata ed era morta durante il periodo del fidanzamento due suicide una cadendo da una finestra una di crepacuore probabilmente un attacco dovuto all'improvviso shock provocato da uno spavento la quinta ragazza era stata assassinata una sera nel parco che circondava l'abitazione ma fino a quel momento non sembrava essercene una conoscenza esatta si aveva solo l'impressione che fosse stata colpita dal calcio di un cavallo ed era già morta quando fu rinvenuta ora vedete tutte queste morti compresi suicidi potrebbero ascriversi a cause naturali mi seguite tuttavia in ognuno dei casi documentati la fanciulla aveva vissuto esperienze eccezionali e terrificanti durante il corteggiamento dal momento in cui tutti i documenti facevano menzione o del nitrito di un cavallo invisibile o del frastuono provocato da un cavallo invisibile al galoppo oltre a molti altri fenomeni curiosi e inspiegabili penso cominciate a capire ora quale insolita faccenda fosse quella in cui mi era stato chiesto di indagare appresi dai documenti che l'ossessione delle ragazze era tal punto costante che i fidanzati di due di loro erano fuggiti via e fu questo che mi fece supporre vi fosse qualcosa di più in questa faccenda di una semplice successione di inquietanti coincidenze venni a conoscenza di questi fatti poco dopo essere giunto all'abitazione poi cercai di sapere più in dettaglio cosa era accaduto la sera del fidanzamento della signorina iskins con beaumont a quanto pare mentre i due attraversavano il grande corridoio inferiore appena dopo il tramonto e prima che le lampade fossero accese si udì un orribile nitrito nei loro pressi immediatamente dopo beaumont ricevette una botta tremenda che gli spezzò l'avambraccio destro a quel punto i familiari accorsero assieme alla servitù per sapere cosa era accaduto furono portate delle luci e il corridoio ispezionato con tutta quanta la casa ma nulla ne venne fuori immaginerete l'agitazione che c'era e le chiacchiere per metà incredule per metà no che si susseguirono sull'antica leggenda più tardi nel cuore della notte il vecchio capitano fu svegliato dal frastuono di un cavallo che galoppava intorno l'abitazione molte volte poi beaumont e la ragazza riferirono di aver udito suoni di zoccoli vicino a loro dopo il tramonto in diversi corridoi e in stanze differenti tre notti dopo beaumont fu svegliato da un nitrito che sembrava provenire dalla stanza dell'innamorata corse in fretta a chiamare il padre ed entrambi si precipitarono da lei la trovarono terrorizzata il nitrito che l'aveva destata pareva vicino al suo letto la notte prima del mio arrivo c'era poi stato un nuovo evento e avevano tutti i nervi a fior di pelle come potete ben immaginare trascorsi gran parte del primo giorno come ho accennato a raccogliere informazioni ma dopo la cena mi rilassai e per tutta la sera giocai a biliardo con beaumont e la signorina isgins ci fermammo verso le 10 prendemmo un caffè e chiesi a beaumont di fornirmi dettagli su ciò che era accaduto la notte prima lui e la signorina isgins erano rimasti a sedere tranquillamente nel salotto della di laizia mentre l'anziana signora faceva da chaperon leggendo un libro diventava scuro e la lampada era all'estremità del tavolo il resto della casa non era ancora illuminato e la sera era scesa prima del solito ebbene sembra che la porta nell'atrio fosse aperta e che la ragazza all'improvviso esclamasse oddio che cos'è sia lei sia beaumont restarono in ascolto e allora anche questi lo sentì il suono di un cavallo fuori della porta d'ingresso è tuo padre le chiese ma lei gli ricordò che il padre non era a cavallo erano entrambi inclini a sentirsi inquieti beaumont fece uno sforzo per scuotersi e andò a vedere se c'era qualcuno all'entrata era abbastanza buio all'ingresso e poteva vedere i pannelli di vetro della porta interna luminosi nell'oscurità dell'atrio si diresse verso il vetro e guardò il vialetto che era nell'altra parte ma non c'era nulla in vista si sentiva confuso e inquieto aprì la porta interna e uscì sullo spiazzo quasi immediatamente la porta d'ingresso sbatté con forza dietro di lui mi rivelò di aver avuto la sgradevole sensazione di essere rimasto in qualche modo in trappola e in questi termini che lui la mise si girò attorno e afferrò la maniglia della porta qualcosa però sembrò tenerla salda con una potente stretta dall'altra parte poi prima che potesse convincersi che era così fu in grado di girare la maniglia e aprire si fermò un momento sulla soglia e scrutò nell'interno senza rendersi conto ancora se fosse spaventato o no udì la filanzata lanciargli un bacio dall'atrio privo di illuminazione e seppe che lo aveva seguito dal salotto ricambiò il bacio e camminò nell'ingresso con l'intenzione di raggiungerla allora in un lampo di orribile consapevolezza comprese che non era la sua innamorata che gli aveva mandato il bacio capì che qualcosa stava cercando di tentarlo nell'oscurità e che la ragazza non aveva mai lasciato il salotto fece un salto indietro e nello stesso istante udì di nuovo il bacio più vicino a lui gridò con quanto fiato aveva in gola mary resta nel salotto non muoverti di lì finché non vengo da te la sentì dire qualcosa in risposta poi acceso una dozzina di fiammiferi tenendoli alti sopra la testa e guardando l'atrio tutto intorno non c'era nessuno ma mentre i fiammiferi si consumavano sopraggiunsero gli strepiti di un cavallo che galoppava per il sentiero deserto ora vedete sia lui sia la ragazza avevano udito il galoppo quando però rivolsi domande più dirette rilevai che la zia non aveva sentito niente per quanto in verità sia un poco sorda e fosse più indietro nella stanza ovviamente tanto beaumont quanto la signorina isgins si trovavano in uno stato di agitazione pronti a sentire qualsiasi cosa la porta poteva essersi chiusa per un'improvvisa corrente dovuta qualche uscio interno lasciato aperto circa la presa sulla maniglia potè essere stato niente più che il gancio del chiavistello per quanto riguarda i baci e il galoppo dissi che questi avrebbero potuto sembrare suoni ordinari se i due fossero rimasti abbastanza razionali come beaumont sapeva i suoni di un cavallo al galoppo sono portati a lunga distanza dal vento cosicché ciò che aveva udito poteva essere un cavallo cavalcato da qualche parte lontano e per il bacio molti lievi rumori come il fruscio della carta o una foglia hanno un suono simile specialmente se si è in uno stato di sovra eccitazione e si ha la tendenza ad immaginare finì di predicare questo piccolo sermone sul buon senso contro le alterazioni della psiche allorché spegnemmo le luci e lasciamo la sala da biliardo ma ne bomò nella signorina isgins furono d'accordo sul fatto che era una loro fantasia eravamo usciti e stavamo attraversando il corridoio stavo facendo del mio meglio perché entrambi razionalizzassero l'accaduto quando ciò che come si dice capitò a fagiolo fu il risuonare di uno zoccolo nella buia sala da biliardo che avevamo appena lasciato senti il terrore per corrermi in un lampo la schiena la signorina isgins diede un rantolo come un ragazzino asmatico e corse lungo il corridoio emettendo piccole urla affannose bomò girò sui tacchi facendo un salto indietro e anch'io indietreggiai un poco eccolo stavolta forse mi crederete vi è certamente qualcosa sussurrai a mia volta senza distogliere lo sguardo dalla porta chiusa della sala eccolo di nuovo c'era un rumore come di un grande cavallo che camminasse in tondo all'interno della sala con passi lenti e studiati un terrore gelido mi colse tanto che mi sembrò impossibile rifiatare conoscete la sensazione so che indietreggiammo perché ci ritrovammo di colpo all'inizio del corridoio lì ci fermammo restando in ascolto i rumori proseguirono costantemente con una specie di orribile ponderatezza come se la bestia prendesse diabolicamente gusto nel camminare per la stanza dove eravamo stati appena capite cosa intendo vi fu una pausa e un lungo intervallo di quiete assoluta eccetto per il mormorio di agitazione di alcune persone giù nell'atrio il suono proveniva distintamente su per la scala immagino fossero tutti riuniti attorno alla signorina iskins forse con l'idea di proteggerla io e bomò rimanemmo là all'estremità del corridoio per circa cinque minuti restando in ascolto di ogni rumore all'interno della sala poi mi resi conto di quale situazione fosse quella in cui mi trovavo e dissi vado a vedere che c'è di là anch'io e gli replicò era bello pallido ma aveva un sacco di fegato gli dissi di aspettare un attimo feci una corsa nella mia stanza da letto e presi la macchina fotografica e flash infilai la pistola nella tasca destra e un tirapugni sul polso sinistro dove era pronto all'uso e non mi avrebbe impedito di manovrare il flash tornai di corsa da bomò mi mostrò la mano destra per farmi vedere che aveva una pistola e a lui gli bisbigliai però di non essere troppo rapido a sparare visto che dopo tutto poteva trattarsi di qualche burlone all'opera da una mensola nel corridoio di sopra aveva preso una lampada che teneva nell'incavo del braccio rotto cosicché avevamo una buona illuminazione tornammo in direzione della sala da biliardo entrambi abbastanza tesi per l'intero intervallo non c'era stato suono ma di botto quando fummo a pochi centimetri dalla porta udì molto onfo di uno zoccolo sul parquet della sala l'istante successivo parve che tutto il luogo tremasse sotto i colpi di un essere enorme che veniva verso la porta sia io sia bomò indietreggiamo di un passo due prima di rendercene conto e aggrapparci al nostro coraggio la pesante camminata venne diretta alla porta e si fermò seguì un altro istante di silenzio fatta eccezione per il battito alla gola e alle tempie che quasi mi assordava aspettammo mezzo minuto prima che ricominciasse il frastuono senza posa dello zoccolo avanzò come se un essere invisibile passasse attraverso la porta chiusa e il pesante incedere fu su di noi saltammo da un lato del corridoio e io mi schiacciai contro il muro i tonfi ci passarono in mezzo lentamente e con deliberazione spietata riuscì a udirli nello stordimento provocato dal pulsare del sangue nelle orecchie e alle tempie mentre il mio corpo era irrigidito schiacciato e senza respiro stetti per un po in questa posizione voltando la testa per osservare il corridoio sapevo solo che un'orribile minaccia era nell'aria mi seguite poi il coraggio mi tornò fui certo che i tonfi dello zoccolo risuonavano dall'altra parte del corridoio mi voltai rapidamente afferrai la macchina fotografica e feci scattare il flash immediatamente dopo bomò fece partire una serie di colpi cominciando a correre e gridare vuole mary presto presto corse lungo il corridoio e io dietro di lui uscimmo sul pianerottolo e udimmo il suono di uno zoccolo sulle scale quindi da quel momento in poi più nulla giù nell'atrio sotto di noi potevo vedere alcune famiglie attorno alla signorina che sembrava svenuta c'erano servi raggruppati poco lontano che guardavano sul pianerottolo e nessuno che diceva una parola circa venti passi in là sulle scale con una spada sguainata in mano vidi il capitano isgins fermato esattamente al di sotto del punto in cui era risuonato l'ultimo tonfo di zoccolo penso di non aver mai visto nulla di più bello del vecchio che stava fra sua figlia e l'essere infernale potrete comprendere l'insolito sentimento d'orrore che provai passando sul punto delle scale dove i suoni erano cessati era come se il mostro fosse ancora lì invisibile e la curiosa cosa era che non udimmo più altri suoni di zoccolo né sopra né sotto dopo che ebbero condotto la signorina isgins nella sua stanza annunciai che sarei venuto non appena fossero stati pronti a ricevermi e di lì a poco quando con un messaggio mi dissero che potevo andare chiese al capitano isgins di darmi una mano con la cassetta degli strumenti che insieme portammo nella camera da letto della ragazza spinsi il letto nel mezzo della stanza e tracciai attorno ad esso il pentacolo elettrico ordinai che alcune lampade fossero posizionate in determinati punti e che per nessuna ragione fosse fatta luce all'interno del pentacolo né che alcuno vi entrasse uscisse invitai anche la madre della ragazza a farsi tracciare un pentacolo intorno ordinando che la sua cameriera sedesse fuori pronta ad ogni ordine per evitare che la signora abbandonasse la propria posizione suggerì inoltre che il capitano passasse la notte nella stanza e si armasse quando uscì trovai bomò che attendeva fuori dalla porta in un pietoso stato d'ansia gli riferì quanto avevo fatto e gli spiegai che la signorina isgins era probabilmente al sicuro all'interno della protezione ma che intendevo stare di guardia alla porta gli dissi che mi sarebbe piaciuto se mi avesse tenuto compagnia sapevo che non poteva dormire nello stato d'animo in cui era e a me non sarebbe dispiaciuto avere un alleato volevo inoltre che restasse sotto la mia osservazione non c'era dubbio infatti che egli si trovava in un pericolo più grande di quello della ragazza almeno questa era la mia idea e lo è ancora come penso concorderete più in là gli chiesi se avesse qualcosa in contrario a farsi tracciare un pentacolo intorno per la notte e fu d'accordo vidi però che non sapeva se credere alla sua virtù o ritenerlo una farsa tuttavia lo accolse seriamente appena gli ebbi fornito dettagli sul caso del velo nero quando il giovane aster morì ricordate disse che il pentacolo era una stupida superstizione e ne rimase fuori poveretto comunque la notte trascorse tranquillamente fino a poco prima dell'alba quando dimmo un cavallo che galoppava intorno alla casa esattamente come lo avevamo descritto poi sentì qualcuno che si muoveva dentro la stanza bussai alla porta agitato come ero e venne ad aprirmi il capitano gli chiesi se fosse tutto a posto rispose di sì chiedendomi se avessi sentito i suoni del galoppo cosicché seppi che li avevo uditi anche lui suggerì che era meglio lasciare la stanza da letto un po aperta fin quando non fosse sopraggiunta l'alba dato che c'era qualcosa di infernale in giro fatto ciò tornammo nella stanza per restare vicino a sua moglie e a sua figlia dovrei a questo punto aggiungere che non ero certo che la difesa avesse efficacia nel caso della signorina iskins infatti gli aspetti peculiari come io li definisco della manifestazione erano così straordinariamente materiali che ero portato a confrontare questo caso con quello di hartford dove la mano del bambino continuava a materializzarsi all'interno del pentacolo e a picchiettare sul pavimento fu un brutto affare quello lì come ricorderete null'altro si verificò però quella notte e appena fu giorno ce ne andammo a dormire beaumont mi bussò verso mezzogiorno scesi e feci colazione e pranzo insieme la signorina iskins era lì e sembrava di buon umore mi disse che l'avevo fatta sentire al sicuro per la prima volta dopo vari giorni mi riferì inoltre che suo cugino harry parsket stava scendendo da londra e avrebbe fatto ogni cosa per aiutarla a combattere il fantasma dopo di che lei e beaumont uscirono in giardino per passare un po di tempo insieme passeggiai per il parco per conto mio e girai attorno alla casa ma non vidi impronte di zoccoli trascorsi poi il resto del giorno esaminando l'intera abitazione e non trovando nulla conclusi l'ispezione prima che fosse buio e rientrai per prepararmi la cena quando scesi il cugino era già arrivato era uno degli uomini più gradevoli che avessi conosciuto da lungo tempo un tale con un gran fegato oltre che il particolare tipo di uomo che mi piace avere al fianco in un caso avverso come quello nel quale mi trovavo notai che ciò che più lo lasciava perplesso era la nostra fede nella realtà dell'infestazione e mi sorpresi quasi a desiderare che qualcosa accadesse solo per mostrargli quanto fosse vera e in realtà qualcosa accadde e a quel punto fu troppo mentre bomone la signorina isgins erano fuori nel parco il capitano mi chiese di recarmi nel suo studio per una breve chiacchierata mentre parsket andò di sopra con le sue trappole parlai a lungo col capitano precisando che l'infestazione non aveva evidentemente alcun legame con quella casa ma solo con la ragazza e che prima andava in sposa meglio era perché questo avrebbe fornito a bomone il diritto di restare con lei in ogni momento aggiunsi che le manifestazioni sarebbero cessate appena il matrimonio fosse stato celebrato il vecchio annui in segno di conferma specialmente alla prima osservazione ricordandomi che le ragazze perseguitate dal cavallo erano state mandate via di casa e avevano incontrato la morte quando erano fuori ma nel mezzo del conversare ecco l'anziano maggiordomo il rompere nella stanza pallidissimo la signorina mary signore la signorina mary sta urlando fuori nel parco signore dicono che possono sentire il cavallo il capitano si lanciò verso una rastrelliera d'armi agguantò la vecchia spada e corse via sguainandola durante la corsa mi precipitai fuori e poi su per le scale afferrai la macchina fotografica con il flash e una pesante rivoltella e urlai in direzione della porta di parsket il cavallo e fui giù nel parco fuori nell'oscurità era un confuso gridare colsi il fragore di uno sparo lontano fra gli alberi disseminati all'intorno poi da una zona oscura alla mia sinistra esploso un suono infernale simile a un nitrito mi girai di scatto e azionai il flash il grande bagliore avvampò per un istante mostrandomi le foglie di un albero che stormiva al vento notturno quindi più profonda di prima l'oscurità mi piombò addosso mentre parsket gridava un po più indietro per sapere se avessi visto qualcosa l'istante dopo era al mio fianco e mi sentii più sicuro in sua compagnia c'era infatti un qualche essere invisibile intorno a noi e io ero momentaneamente cieco a causa del bagliore del flash che cos'era che cos'era continuava a ripetere con agitazione nella voce per tutto il tempo rimasi a scrutare l'oscurità rispondendo meccanicamente non lo so non lo so vi fu uno scoppio di grida da qualche parte davanti a noi e poi uno sparo corremmo in direzione dei suoni gridando di non sparare perché nell'oscurità e nel panico c'era anche questo pericolo allora vennero due guardie a caccia correndo forte per il sentiero con lanterna e pistole e subito dopo una fila di luci che ballavano verso di noi portate da alcuni servi come arrivarono le luci vidi che eravamo giunti vicino a beaumont stava addosso la signorina isgins con la pistola in mano e aveva una ferita sulla fronte vicino a lui era il capitano che agitava la spada in una direzione e nell'altra guardando tutto nel buio poco dietro il vecchio maggiordomo fra le mani un'ascia presa da una delle armerie all'ingresso ma non c'era nulla di strano da rilevare portammo la ragazza nella casa e la lasciamo con sua madre e bomò mentre un garzone correva alla ricerca di un dottore quindi noi altri assieme a quattro guardie a caccia tutti armati con pistole e portando lanterne ispezionammo il parco senza trovare nulla quando fummo rientrati scoprimmo che il dottore c'era già stato aveva fasciato la ferita di bomò che per fortuna non era profonda e ordinato la signorina isgins di andare a letto salì col capitano bomò era di guardia alla porta della ragazza gli chiesi come si sentisse poi appena madre e figlia furono pronte per noi il capitano ed io entrammo nella stanza e fissammo di nuovo il pentacolo attorno al letto disposi il medesimo ordine di guardia della sera precedente e raggiunsi bomò fuori dalla porta quando parsket venne su avemmo da bomò una qualche idea di cosa era accaduto nel parco venivano dal rifugio ovest e stavano rientrando a casa dopo la passeggiata quando improvvisamente la signorina isgins aveva detto ascolta bloccandosi bomò si era fermato all'inizio senza percepire nulla poi lo aveva avvertito lo strepito di un cavallo a grande distanza che galoppava sull'erba verso di loro aveva detto alla ragazza che non era niente e aveva cominciato a sospingerla verso la casa ma lei ovviamente sapeva di non essersi ingannata in meno di un minuto lo avevano sentito vicino nell'oscurità e avevano preso a correre allora la signorina isgins aveva messo il piede in fallo ed era caduta aveva cominciato ad urlare e questo è quello che il maggiordomo aveva udito appena bomò nebbe sollevato la ragazza aveva percepito gli zoccoli che si avvicinavano con tonfi sordi nella loro direzione l'aveva protetta con il corpo e aveva scaricato tutti i proiettili della pistola in direzione del rumore era certo di aver visto qualcosa come la testa di un enorme cavallo nella luce dell'ultimo corpo esploso e questo proprio sopra di lui quando era stato atterrato da una botta tremenda a quel punto il capitano ed il maggiordomo erano arrivati di corso urlando il resto naturalmente noi lo sapevamo verso le dieci di sera il maggiordomo ci portò un vassoio di cibo avvertì bomò di fare attenzione a non bere alcolici e mi feci anche dare la sua pipa i suoi fiammiferi a mezzanotte gli disegnai un pentacolo attorno mentre io e parsket gli sedemmo ciascuno da un lato sebbene fuori della protezione temevo infatti manifestazioni soprannaturali solo contro bomò o la signorina isgins restammo in silenzio il corridoio era illuminato da una lampada ad ogni estremità inoltre eravamo tutti armati io e bomò di pistole e parsket di fucile oltre all'arma avevo macchina fotografica e flash ogni tanto ci sussurravamo qualcosa per due volte poi il capitano venne fuori dalla stanza da letto per scambiare qualche parola con noi verso l'una e mezza eravamo molto silenziosi poi circa venti minuti dopo sollevai la mano senza dire nulla perché mi era sembrato di avvertire un galoppo nella notte bussai alla porta della stanza da letto e quando il capitano venne ad aprire gli sussurrai che pensavamo di aver udito il cavallo restammo in ascolto e sia parsket sia il capitano credettero di averlo sentito ma in quel momento non ne ero più certo e neppure bomò tuttavia poco dopo mi parve di sentirlo ancora dissi al capitano che pensavo avrebbe fatto meglio tornare nella stanza da letto e a lasciare la porta un po aperta cosa che fece ma da quel momento in poi non sentimmo più nulla giunse ancora l'alba e andammo di nuovo tutti a letto quando fui chiamato all'ora di pranzo ebbi una piccola sorpresa il capitano isgins mi riferì che avevano fatto una riunione di famiglia decidendo di accettare il mio consiglio e celebrare il matrimonio senza neppure un giorno di indugio bomon era già sulla strada di londra per ottenere una licenza speciale e speravano che il matrimonio avesse luogo l'indomani questo mi rincuorò sembrandomi la cosa più saggia da fare in quelle straordinarie circostanze nel frattempo avrei proseguito le indagini fin quando il matrimonio non fosse stato celebrato però la mia premura sarebbe stata di tenere la signorina isgins sotto la mia protezione dopo pranzo pensai di scattare alcune foto sperimentali alla ragazza e eventuali presenza attorno a lei certe volte la macchina fotografica vede cose invisibili a occhio nudo voi capite quello che intendo e con questa intenzione e in parte per avere una scusa per starle il più vicino possibile chiesi alla signorina isgins di assistermi durante gli esperimenti sembrò lieta di farlo così trascorsi molte ore in sua compagnia girando per tutta la casa quando mi veniva l'impulso scattavo foto a lei e alla stanza o al corridoio in cui ci capitava di essere dopo che avemmo percorso tutta l'abitazione in questo modo le chiesi se si sentiva abbastanza coraggiosa da ripetere gli esperimenti nelle cantine rispose di sì così andai a stanare il capitano e parsket visto che non intendevo condurla neppure nel buio artificiale senza aiuto e una compagnia adeguata quando fummo pronti scendemmo nella cantina dei vini il capitano isgins con un fucile e parsket con un fondale e una interna feci stare la ragazza nel centro mentre parsket e il capitano tenevano il fondale dietro di lei feci scattare il flash e ci recammo nella cantina successiva dove ripetemmo l'esperimento nella terza cantina un luogo grandioso e buio come la pece qualcosa di fuori del comune ed orribile si manifestò avevo invitato la signorina isgins a stare al centro con suo padre parsket che tenevano il fondale come prima quando tutto fu pronto e appena premetti la leva del flash sopraggiunse l'orribile nitrito che avevo sentito fuori nel parco sembrava provenire da qualche parte al di sopra della ragazza nel bagliore della luce improvvisa vidi che stavo guardando ansiosamente in alto verso qualcosa di invisibile poi nella relativa oscurità che seguì urlai al capitano e a parsket di portare la signorina isgins fuori alla luce del giorno fu fatto all'istante chiusi la porta a chiave e tracciai il primo e l'ottavo segno del rituale sama in opposizione a ciascuno stipite connettendoli attraverso la soglia con una linea tripla nel frattempo parsket e il capitano isgins avevano portato la ragazza dalla madre lasciandola lì che era quasi svenuta restai di guardia fuori dalla porta della cantina provando un grande turbamento e sapendo che c'era qualcosa di ripugnante là dentro il tutto accompagnato da un senso di vergogna per aver esposto la signorina isgins al pericolo avevo preso il fucile del capitano quando questi e parsket vennero nuovamente giù portavano pistole e lanterne non potrei riferire il profondo senso di sollievo che mi giunse quando li sentì arrivare da me provate solo a immaginare come era stare fuori della cantina riuscite a immaginarlo ricordo di aver notato solo pochi istanti prima di aprire nuovamente la porta quanto bianco e cadaverico sembrasse parsket e che il vecchio capitano aveva un aspetto terreo mi chiesi se la mia faccia fosse come la loro questo sapete ebbe il suo preciso effetto sui miei nervi poiché sembrò portare la mostruosità della vicenda su di me in un modo nuovo seppi infatti che era solo pura forza di volontà a trascinarmi alla porta e a farmi girare la chiave mi fermai un istante e poi con uno scatto nervoso spalancai l'uscio tenendo la lanterna alta sopra la testa parsket e il capitano mi affiancarono tenendole loro ma il locale era vuoto ovviamente non mi fidavo di un'occhiata generica di questo tipo e con il loro aiuto trascorsi molte ore sondando ogni angolo del pavimento del soffitto e delle pareti alla fine dovetti concludere che il locale era a posto e così ce ne venimmo via sigillai la porta e fuori di fronte a ciascuno stipite disegnai il primo e l'ultimo segno del rituale sahamah unendoli come prima a mezzo di una linea tripla quando salimmo chiesi come stesse la signorina isgins e la ragazza venne fuori da sé per dirmi che stava bene e che non dovevo preoccuparmi né colpevolizzarmi mi sentii meglio e andai a vestirmi per la cena quindi io e parsket occupammo uno dei bagni per sviluppare i negativi delle foto nessuno aveva però qualcosa da rivelarci sinché non arrivammo alla foto scattata in cantina parsket la stava sviluppando e io avevo preso un mucchio di negativi per esaminarli alla luce della lampada ne avevo passati in rassegna molti allorché udì un grido da parte del mio compagno quando corsi da lui stava esaminando attentamente un negativo che mostrava la ragazza intenta a guardare in alto come l'avevo vista ma la cosa che mi sconvolgeva era l'ombra di uno zoccolo enorme proprio sopra di lei come se scaturito dall'oscurità le stesse calando addosso sapete le avevo fatto correre proprio un bel pericolo fu questo il mio primo pensiero quando lo sviluppo fu completo fissai la lastra e la esaminai alla luce non c'era dubbio che a sovrastare la signorina isgins fosse un enorme zoccolo spettrale ciò nonostante non ero minimamente prossimo a una conoscenza del fenomeno e potei solo mettere in guardia parsket dal riferirne alla ragazza poiché l'avrebbe spaventata mostrai tuttavia la cosa al padre poiché ritenevo giusto che egli sapesse quella notte prendemmo le stesse misure precauzionali delle due sere precedenti e parsket mi tenne compagnia ma l'alba sopraggiunse senza che nulla di insolito accadesse e così me ne andai a letto quando scesi a pranzo venne a sapere che bomon aveva telegrafato per dire che sarebbe stato di ritorno dopo le quattro e che il prete era stato avvisato per celebrare il matrimonio era evidente che le signore della casa erano in uno stato di agitazione il treno di bomon tardò ed egli non rincasò prima delle cinque ma il prete non si fece vivo e il maggiordomo entrò per riferire che il vetturino era tornato senza di lui che era stato richiamato inaspettatamente per due volte nel corso della sarata fu mandata la vettura ma il sacerdote non venne cosicché dovemmo rimandare il matrimonio al giorno seguente quella notte disposi la difesa attorno al letto della ragazza e il capitano e sua moglie sedettero con lei come prima come prevedevo bomon insistè per fare la guardia insieme a me e apparve insolitamente spaventato non per se stesso badate bene ma per la sua fidanzata mi rivelò di avere il brutto presentimento che quella notte si sarebbe verificato un terribile assalto finale alla sua dolce metà gli dissi ovviamente che questo era dovuto al nervosismo ciò nonostante mi rese ansioso perché ne avevo viste troppe per non sapere che in talune circostanze la convinzione premonitrice di un pericolo imminente non è da scrivere necessariamente ai soli nervi anzi bomon era così sinceramente convinto che la notte avrebbe portato una qualche straordinaria manifestazione che feci legare a parsket un lungo cordoncino quello della campanella del maggiordomo e che rimanesse a portata di mano lungo il corridoio al maggiordomo stesso diedi l'indicazione di non spogliarsi e di dare il medesimo ordine a due domestici se suonavo doveva venire all'istante con quelli recando lanterne che dovevano restare accese tutta la notte se per una qualche ragione la campanella non suonava e dava un colpo di fischietto doveva prenderlo come un segnale in luogo della campanella stessa sistemati questi piccoli dettagli tracciai un pentacolo attorno a bomon e lo avvertì di restarvi dentro qualunque cosa succedesse fatto ciò bisognava solo aspettare e sperare che la notte si svolgesse tranquillamente come la precedente parlammo a malapena e verso l'una del mattino eravamo tutti in tensione così che alla fine parsket si alzò e cominciai a camminare su e giù lungo il corridoio per calmarsi un po mi tolsi le scarpe e lo raggiunsi prendemmo a passeggiare avanti indietro bisbigliando raramente per circa un'ora finché nel girarmi non mi impiglia il piede nel cordoncino della campanella cadendo a faccia avanti senza tuttavia ferirmi o fare rumore quando mi rialzai parsket mi diede un colpetto ha notato carnachi che la campanella non ha suonato per giove è vero esclamai aspetti un minuto scommetto che solo un nodo da qualche parte nella corda lasciò la pistola e scivolò nel corridoio prendendo la lampada e inoltrandosi in punta di piedi nella casa tenendo la pistola di bomon pronta nella destra era un tipo coraggioso quel parsket come ricordo di aver pensato allora e in seguito d'un tratto bomon mi fece segno di fare silenzio subito dopo sentì ciò che avevo udito lo strepito di un cavallo al galoppo fuori nella notte rabbrividì il suono cessò lasciando nell'aria una sensazione orribile desolata e inquietante allungai la mano sul cordoncino della campanella sperando che parsket lo avesse liberato del nodo poi restai in attesa guardandomi avanti e alle spalle trascorsero forse due minuti pregni di quel che sembrava una quieta ultraterrena d'improvviso all'estremità illuminata del corridoio risuonò il tonfo di un enorme zoccolo la lampada si rovesciò con fracasso e restammo nell'oscurità diedi un vigoroso strattone alla corda e soffiai nel fischietto quindi feci scattare la leva del flash il corridoio rifulse di viva luce non c'era niente e l'oscurità ripiombò fulminea sentì il capitano alla porta della camera da letto e gli gridai di portare una lampada rapidamente qualcosa cominciò a dare calci all'uscio udì il capitano urlare dentro la stanza e le grida delle donne ebbi l'improvviso terrore che la creatura fosse penetrata nella stanza nello stesso tempo però dal corridoio giunse il nitrito che avevamo sentito nel parco nella cantina suonai nuovamente nel fischietto e andai tentoni alla ricerca del cordoncino della campanella urlando bomon di restare nel pentacolo qualunque cosa accadesse mentre urlavo nuovamente al capitano di portare una lampada un fracasso giunse contro la porta della stanza da letto presi i fiammiferi per avere un po di luce prima che quel sorprendente e invisibile essere mostruoso ci fosse addosso il fiammifero raschiò sulla scatola dando un fioco bagliore nello stesso istante udì un flebile rumore alle spalle mi voltai bruscamente in una specie di folle terrore e vidi qualcosa nella luce del fiammifero una mostruosa testa di cavallo vicina a bomon attento bomon è dietro di te il fiammifero si spense seguito dallo sparo della doppietta di parsket esplosa evidentemente maneggiata da bomon vicino alle mie orecchie colsi per un momento in mezzo alla vampa di luce e fumo la testa smisurata e lo zoccolo enorme che sembravano scendere su bomon nello stesso istante esplosi tre colpi di pistola vi fu una botta sorda e l'orribile nitrire proruppe vicino a me sparai due volte in direzione del suono qualcosa mi colpì e fui spinto indietro mi rialzai sulle ginocchia e gridai aiuto più forte che potei udì le donne urlare dietro la porta chiusa dalla stanza da letto che mi parve venisse fracassata dall'interno subito dopo seppi che bomon stava lottando con qualche orrenda entità vicino a me per un istante esitai intontito paralizzato e poi ciecamente e rigido per lo spavento corsi in suo aiuto un grido strozzato fendè l'oscurità a sentire il quale mi lanciai nel buio afferrai un'enorme orecchia pelosa poi qualcosa mi assestò un colpo poderoso facendomi cadere stordito risposi al colpo indebolito e alla cieca e mi aggrappai con l'altra mano a quell'essere soprannaturale avvertì un tremendo fragora alle mie spalle e un'esplosione di luce vi furono altre luci nel corridoio rumore di passi e urla le mani mi vennero separate dalla presa chiusi gli occhi intontito e udì un grido violento quindi un colpo pesante come un macellaio che tranciasse carne e poi qualcosa mi cadde addosso fui aiutato a tirarmi sulle ginocchia dal capitano e dal maggiordomo sul pavimento giaceva un enorme testa equina da cui sporgevano un tronco e delle gambe umane ai polsi erano fissati degli zoccoli era il mostro il capitano tagliò qualcosa con la spada si chinò e sollevò la maschera poiché di una maschera si trattava vidi allora la faccia dell'uomo che l'aveva indosso era parsket una brutta ferita gli attraversava la fronte dove la spada del capitano aveva tagliato il travestimento guardai confuso da lui a bomon che si tirava su a sedere poggiando contro la parete del corridoio poi guardai nuovamente parsket per giove dissi alla fine per poi restare in silenzio perché avevo provato vergogna per quell'uomo mi state seguendo no stava aprendo gli occhi ed ero arrivato al punto che quel tipo cominciava a piacermi mentre parsket recuperava i sensi e spostando lo sguardo su tutti noi il senso della realtà accadde qualcosa di incredibile perché dal fondo del corridoio risuonò ad un tratto il rumore di un enorme zoccolo guardai in quella direzione e poi subito a parsket scorgendogli uno spavento terribile nel viso e negli occhi si girò attorno debolmente scrutando con folle terrore verso la fonte del suono anche noi altri guardammo raggelati ricordo vagamente dei mezzi singulti e sossurri provenire dalla stanza da letto della signorina isgins ci fu silenzio per alcuni secondi e poi si avvertì l'orripilante clung clung dei possenti zoccoli che venivano verso di noi in molti pensammo fosse qualche marchigegno di parsket ancora all'opera e provammo un miscuglio di paura e dubbio ognuno guardò il giovane il capitano gli gridò ferma queste diavolerie una buona volta non hai fatto abbastanza da parte mia ero spaventato perché avevo la sensazione che vi fosse qualcosa di mostruoso e cattivo allora parsket disse in un rantolo non è colpa mia mio dio questo non è colpa mia non è colpa mia mio dio qualcosa di orribile veniva lungo il corridoio vi fu un folle slancio di fuga e anche il vecchio capitano indietreggiò con il maggiordomo e i domestici bomon svenne del tutto dal momento che come scoprì poi era stato brutalmente colpito mi trassi indietro contro la parete restando in ginocchio troppo sconvolto anche solo per correre i tonfi poderosi eccheggiarono vicino a me facendo tremare il pavimento al loro passaggio poi i rumori cessarono e seppi con terrore che la creatura si era fermata contro la parete della stanza da letto della ragazza mi rese anche conto che parsket si era alzato e messo di traverso sulla soglia con le braccia stese sì da occupare tutto il vano con il suo corpo era pallido e il sangue della ferita gli colava sulla faccia notai che fissava qualcosa nel corridoio con un particolare sguardo di disperazione fermo e assolutamente autoritario ma non c'era nulla da vedere ed ecco che il clung clung ripresa ad avanzare ma nello stesso momento parsket si gettò di faccia fuori della soglia vi furono urla da parte del gruppetto di uomini mentre i domestici e il maggiordomo si misero a correre con le lanterne e il capitano si mosse contro la parete di fronte mettendo la sua lampada sopra la testa il monotono incedere del cavallo lo attraversò lasciandolo illeso allora udì il mostruoso zoccolo che non smetteva di andare attraverso l'abitazione e quindi vi fu un profondo silenzio il capitano si mosse verso di noi lentamente e scosso con una faccia terrea mi trascinai verso parsket e il capitano venne in mio aiuto lo girammo era morto potete comprendere quali sensazioni mi passarono da parte a parte guardai il capitano che subito disse quella cosa quella cosa quella cosa so che stava cercando di dirmi che parsket si era slanciato per mettersi tra sua figlia e l'essere che aveva attraversato il corridoio mi alzai e recuperai l'equilibrio sebbene non fossi stabile il volto del capitano cambiò espressione si inginocchiò vicino a parsket e pianse come un bambino sconvolto poi le donne uscirono dalla stanza e io venni via avvicinandomi a bomò questa è in sostanza l'intera storia la sola cosa che mi resta è cercare di spiegare alcuni tasselli dell'intera vicenda avrete capito che parsket era innamorato della signorina isgins questo dettaglio è la chiave per comprendere i risvolti straordinari di questa vicenda egli ebbe sicuramente una parte nella presunta infestazione penso anzi che fosse responsabile di tutto o quasi almeno ma come potete immaginare non sono in grado di dimostrare nulla e ciò che posso dirvi è per lo più il risultato di deduzione in primo luogo è ovvio che l'intenzione di parsket era di spaventare bomò per allontanarlo quando si rese conto di non poterlo fare si disperò al punto di volerlo uccidere mi rincresce a fermare ciò ma i fatti mi sforzano a farlo sono quasi certo che fu parsket a spezzare il braccio a beaumont conosceva tutti i dettagli della leggenda del cavallo ed ebbe l'idea di lavorarci sopra per un suo scopo aveva certamente un modo per entrare e uscire indisturbato dalla casa forse attraverso una delle finestre alla francese oppure era in possesso della chiave di una o due porte del giardino così quando si credeva fosse via stava in realtà nascondendosi da qualche parte nelle vicinanze l'episodio del bacio nell'oscurità dell'ingresso lo attribuisco all'immaginazione citata di beaumont e della sua fidanzata ma il rumore del cavallo fuori della porta principale è un po difficile da spiegare sono comunque tentato di mantenere la mia posizione anche su questo punto che non vi fosse cioè nulla di sovrannaturale nella vicenda i tonfi degli zoccoli erano provocati da parsket che dal pavimento sottostante picchiava contro il soffitto di pannelli con un ceppo di legno legato a uno dei ganci della finestra l'ho verificata un esame che ha messo in mostra dei segni nell'intelaiatura i rumori del cavallo al galoppo attorno alla casa erano anch'essi probabilmente un trucco di parsket che deve aver avuto un cavallo legato nel boschetto lì vicino a meno che non provocasse il suono da solo ma non so come poter andare veloce abbastanza da produrre quell'illusione in ogni caso non mi sento del tutto sicuro a questo punto non ho trovato alcun segno di zoccolo come ricorderete il nitrito nel parco era un artificio ventriloquale di parsket anche l'attacco bomon fu opera sua al punto che quando credetti si trovasse nella sua stanza doveva in realtà essere fuori per poi raggiungermi poco dopo questo è quasi probabile parsket era causa di tutto del resto se ci fosse stato qualcosa di più serio avrebbe di certo abbandonato la sua diavoleria sapendo che non c'era più bisogno di essa non riesco a immaginare come evitasse di morire per un colpo d'arma da fuoco sia allora sia nell'ultima folle azione di cui vi ho detto sapete non aveva alcun timore che lo riguardasse dobbiamo esserci ingannati quando parsket presente ci sembrò di sentire il cavallo che galoppava attorno alla casa nessuno ne era certo del resto a parte ovviamente parsket stesso che incoraggiava la convinzione il nitrire nella cantina è dove ritengo venne a parsket il sospetto che ci fosse qualcos'altro all'opera oltre alla sua finta infestazione il nitrito era prodotto ancora da lui se però ripenso al suo pallore sono certo che i suoni dovevano avere una peculiarità infernale che spaventò lui stesso tuttavia in seguito volle persuadersi di essersi ingannato ovviamente non devo dimenticare che l'effetto sulla signorina isgins deve averlo fatto sentire meschino la storia del prete che era stato richiamato per un impegno fu escogitata ancora da parsket che voleva avere qualche ora in più per raggiungere il suo obiettivo e quale fosse anche una misera immaginazione potrà mostrarlo aveva infatti scoperto che bomon non era spaventato odio pensarlo ma ne sono costretto a ogni modo è ovvio che l'uomo era lontano dal suo normale equilibrio psichico l'amore è una ben strana malattia dunque non c'è alcun dubbio che fu parsket che lasciò la cordicella impigliata da qualche parte così da potersela svignare con la scusa di liberarla ciò gli diede inoltre l'opportunità di rimuovere una delle lampade nel corridoio dopodiché dovette solo fracassarne una contro l'altra e il corridoio piombò in un'oscurità profonda che gli permise di assaltare bomon fu sempre parsket che bloccò la porta della camera da letto prendendone la chiave era nella sua tasca questo impedì al capitano isgins di portare una luce e intervenire ma il capitano abbatté la porta con un pesante colpo che risuonò spaventoso nell'oscurità la foto dello zoccolo sulla signorina isgins nella cantina è una delle cose di cui sono meno sicuro poté essere architettato da parsket mentre ero fuori della stanza ciò che sarebbe stato semplice a chiunque ne avesse conosciuto il modo ma sapete non sembra proprio un falso di contro c'è anche qualche buona percentuale di probabilità che si trattasse di un falso ma la cosa è troppo vaga per un esame che permetta un giudizio definitivo così non esprimerò alcuna opinione del resto si tratta di una fotografia venuta male e ora vengo all'ultimo spaventoso dettaglio non c'è stata un'ulteriore manifestazione soprannaturale cosicché c'è molta incertezza nelle mie conclusioni se non avessimo sentito gli ultimi suoni e se parsket non avesse mostrato quel senso di paura tutto il caso potrebbe spiegarsi nel modo che ho indicato e infatti come avete visto sono dell'opinione che quasi tutto in questa faccenda possa essere spiegato non vedo però come tornare a ciò che abbiamo sentito alla fine e alla paura mostrata da parsket la sua morte no quella non dimostra niente nell'inchiesta fu banalmente descritta come dovuto a un attacco di cuore questo ci lascia all'oscuro riguardo al fatto se morì perché si frappose fra la ragazza e un qualche essere mostruoso l'espressione sul volto di parsket e l'essere che chiamò quando dimmo i tonfi di zoccolo che provenivano dal corridoio sembrano mostrare che egli ebbe l'improvvisa certezza di quel che prima era nulla più di un orribile sospetto e la sua coscienza di un qualche pericolo imminente fu addirittura molto più reale della mia e compì allora un gesto supremo ma carnachi e qual era la causa quale ne fu la causa carnachi a questo punto scosse la testa dio solo lo sa se quella cosa era ciò che sembrava essere allora si potrebbe suggerire una spiegazione che non offenderebbe la razionalità di nessuno ma che potrebbe essere anche errata tuttavia ho pensato quantunque questo richiederebbe una lunga lezione sull'induzione del pensiero perché voi appreziate le mie ragioni ho pensato che parsket avesse prodotto quel che potrei definire un tipo di infestazione indotta una specie di simulazione indotta delle sue concezioni mentali dovuta ai suoi pensieri disperati e ai suoi rimugini non è possibile renderlo più chiaro in poche parole ma carnachi l'antica leggenda perché non poteva esserci qualcosa di vero in essa poteva esserci qualcosa ma non credo avesse qualcosa a che fare con questo non ho ancora partorito le mie ragioni ma fra poco potrò essere in grado di dirvi perché lo penso e il matrimonio carnachi e la cantina vi fu trovato qualcosa domandò taylor sì il matrimonio fu celebrato quel giorno in barba alla tragedia fu la cosa più saggia da fare considerando le cose che non posso spiegare sì feci sollevare il pavimento della cantina perché avevo la sensazione di poter trovare qualcosa che gettasse luce sulla faccenda ma non trovammo nulla sapete l'intera storia è spaventosa e straordinaria io non dimenticherò mai l'espressione sul volto di pasquet e successivamente i suoni di quei grandi zoccoli che attraversarono l'abitazione silenziosa carnachi a questo punto si alzò e ora potete andare disse in sono amichevole usando la formula consueta di congedo e così noi uscimmo sulla quieta del tamigi dirigendoci ognuno alle nostre abitazioni fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentare carnachi il cavallo dall'invisibile grazie per l'ascolto